Una corsa su un palo reso scivoloso dal grasso e sospeso sul mare. Questa gara che si svolge nel porto è una delle principali attrazioni dei festeggiamenti a San Giuliano, a Malta, in onore del patrono della città. Vince chi riesce ad afferrare la bandierina posta alla sommità di questo insidioso trampolino, ma per molti non è tanto questo l'obiettivo quanto quello di cadere in maniera non troppo goffa.